L'Europa l'ha capito, l'anno scorso la Commissione ha fatto una comunicazione importante, il Parlamento approverà oggi e domani questa nostra relazione, c'è un'analisi approfondita da fare, da capire quali possono essere gli interventi legislativi mirati da poter effettuare nella normativa europea, si tratta di poche cose che riescono a far sì che il mercato unico si affermi anche nell'economia digitale.